Signori, 20 giorni dopo l'annuncio del crowdfunding da parte della Ghost Galaxy, abbiamo finalmente in chiaro quali saranno le ricompense per chi deciderà di aderire attivamente allo sviluppo del ritorno del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo. Reaper of Embers, questo il nome della prima campagna, vedrà al costo di 150 dollari un corrispettivo pari a 12 mazzi del nuovo set di Keyforge, Winds of Exchange, due playmat a scelta tra i set disponibili presenti nella sesta espansione e gli ultimi due pezzi forti di questa campagna, che saranno il mazzo personalizzato con il proprio nome che battezzerà l'arconte presente sul dorso delle carte ed un playmat a mio parere magnifico con le stesse modalità di creazione dell'unico. Per maggiori informazioni in descrizione vi lascerò il link al sito web ufficiale dove si parlerà di questo annuncio e l'indirizzo alla campagna Game Found promossa dalla Galaxy. E voi trovate interessanti i premi di questa prima campagna sapendo che ce ne saranno due di entità inferiore e altrettante di entità superiore a questa? Come sempre fatemelo sapere nei commenti e seguitemi se vorrete conoscere altre notizie provenienti dal crogiolo.